ah mi scordi vaffaculo so merda che c'è lo sprint infinito noi siamo cosi semplici vende di chi il fuori no vai quick bello eccolo sinistra fede sinistra dalla porta scorrevole che vuol dire no no ho 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 e lo aspetta di msr e lo aspetta si si primo round mi dicono ho inutile che stai la che ne sai tu non c'hai dei chance come me no eccolo mamma guarda che hacker è qui mamma mia musica scatenata ma da dove l'hai vinto scusa dal collo tutti di là scappo scappo no sono tutti dall'altra parte alex vai black tutti giù di là tutti tutti è qua è qua ma l'ho preso mi pare vai 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 c'è ancora tanti 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 eh si vai vai ti ritrovi tutti li ho hitati si ragazzi siamo morti come i polli eh nessuno che guardava me e tutti che guardavano il black eh senti i migliori eh anche qua se li iniziano le rimbambiaglie vai vai li vai li aspetta finita la speed eh cosa eh 44 eccolo devo andato sopra devo killarli tutti e due si e li vedete cosa qua no tutti e due vabbè dai dai una guardata di sensor uno sta qua panni bravissimo tutti e due sopra è sceso è sceso su hit black mi sa tanto da venene tu ah è davvero da venezia al centro ah ecco eh aspettate aspettate un secondo ditemi se arrivano ma ma no si sente la scheda grafica è bello adesso non c'è scuola ok al solito scherografica il problema grande perché mi diventa tutto rosa e sono con il vip ma simpatico no 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 c'è poche parole c'è come per esempio qua una scritta come obiettivo di fare 180 180 180 punti c'è massi il primo dell'altro team e prendi 3 punti il secondo 2 e il terzo un punto eh è sceso prendi con le due ci sono altre due no cazzo stavo lì sto adesso a dire un'altra cosa va bene hai fatto abbastanza bene esatto ho visto quella partita eliminazione con il vip quando killi il vip ti da ti da la scritta percorso lascialo quanto muori eh devo mettere gli hydra da me anch'io base hydra 2 sinistra magic per sinistra mamma mia va per destra ti mira ti mira di cieco cosa 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 oh mi ha fatto il giro da 6 sembrava la mia è qua arriva 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 non forza sta roba dai che era solo qua si entra vai entra vai dai vai bella 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 state così eh eh ce li ha Marco le haide eh la te da Marco vai 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 oh no ahahah bella così buona qua è più difficile che le rush si buona Marco grazie i carattaccia lo sono carattacca 2 2 e anche io sempre a vero le spalle non posso entrare in bravo porco dio sei troppo alto mi sembra giusto bella guarda quanti hp che avevo vabbè mi faccio un po' tra i broli se serve in seguito l'altro no oh io ho levato 90 hp a quello si l'ho tirato un colpo eh round start auto fermi solto ora che te ne arriva uno eh ho visto ho visto ecco ah no no tenti tentata ora robo è dentro le scale del tank è dentro le scale del tank no 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 ma non muore no 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 ti guardo io a sinistra ecco eccolo la vero? è scarsissimo il è che morto sinistra sinistra ma pericolo e vai vai scotterati no ho visto la pittoria c'è la tradizionale c'è la vecchia 20 22 anni 5 3 8 9 10 13 14 15 si è ben vinto vittorio potremmo il blanco blanco black blanco black sangue nero insomma ecco qua bene fermo così lol marco ma il bc da cv c'è il bc il vado a curarmi c'è curi che ha vinta nooo buco pane buco se ti curi forse è merda e che sborba inculata a mare attenzione non lo sentiamo parla è napoletano buona bomba c'è chi non è overfidati dai panini arrivo tiro ma c'è una utile oh volevo uno scopo è epico ecco ecco ecco